Sindaco, da qualche giorno quattro nuclei familiari hanno occupato abusivamente alcune case in via Euripide qui a Naro, case di edilizia popolare che però ancora non sono state completate. Come mai questo? Le case sono state fatte finanziare dalla loro amministrazione Morello dieci anni fa. Noi abbiamo iniziato i lavori per la realizzazione, subito dopo io non sono stato rieletto, quindi le amministrazioni che sono succedute poi non hanno completato i lavori, anche perché è successo un errore da parte dell'assessorato regionale che non ci hanno assegnato 90.000 euro. Questi 90.000 euro alla fine sono mancati e quindi stiamo aspettando, infatti noi abbiamo definito finalmente questa vicenda con l'assessorato che non voleva riconoscerci questa somma e comunque ce l'hanno finalmente riconosciuto, però ci hanno detto che ce l'assegneranno ora con la riapertura del nuovo bilancio, quindi stiamo aspettando da un momento all'altro che ci assegnino questi soldi per completare l'opera finalmente, quindi dopo che verrà completata naturalmente potremmo assegnare questi alloggi, perché fino a questo momento gli alloggi non sono completi, non sono in sicurezza, mancano gli impianti, manca tutto, quindi è per questo che noi non li abbiamo assegnati. Quindi noi capiamo le ragioni di queste famiglie che le hanno occupate, però non concepiamo il metodo perché loro sanno benissimo queste famiglie che noi ci siamo resi disponibili fin dall'inizio a venire incontro alle loro esigenze, ad aiutarle per quello che è possibile, però fermo restando un discorso che l'amministrazione non è un'agenzia immobiliare, da case se ce le ha, se non le ha poi ognuno si risolve il problema da sé, non è che noi possiamo avere case per chiunque, però noi abbiamo fatto un'attività di ricerca in tutte le case popolari, questa volta di proprietà degli ACP, di ricercare le case che sono assegnate ma non abitate, quindi quelle case che praticamente sono occupate abusivamente da parte degli assegnatari, a questi noi li stiamo togliendo per poterle assegnare proprio a loro, quindi l'amministrazione non si è fermata, l'amministrazione lavora per poter dare un alloggio a queste famiglie, però nei limiti della legge e nei limiti del regolamento di quello che è le regole civili per poter arrivare alla soluzione dei loro problemi. Quindi a queste famiglie lei chiede di avere pazienza? Sì, io ho già parlato con queste famiglie, mi dispiace che loro sono arrivate a questa azione di forza che vogliono fare nei confronti dell'amministrazione, però quello che posso dire è solo di avere pazienza perché noi già abbiamo questa settimana appuntamento con lo IACP per vedere appunto di poter reperire queste case sfitte, le case che non vengono utilizzate e assegnarle a loro. Per quanto riguarda questi alloggi invece bisogna aspettare i tempi del finanziamento, dei lavori di ristrutturazione e di completamento e quindi poi la definizione della graduatoria per poter essere assegnato. Ci vuole del tempo, ma noi non stiamo fermi sicuramente.